I carabinieri di Fermignano hanno arrestato ieri pomeriggio un operaio quarantenne con precedenti per i reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L'uomo aveva letteralmente sequestrato in un appartamento la propria convivente, una donna di 35 anni, originaria dell'entroterra, con la quale aveva instaurato un rapporto dal 2017 e dal mese di luglio conviveva nell'appartamento incriminato. Ad alertare i carabinieri dopo giorni e nottate di litigate ed urla della donna i vicini di casa, che avevano intuito la condizione di segregazione della donna anche da un particolare alquanto singolare. L'uomo chiudeva sempre la porta dall'esterno, anche con la donna al suo interno, e metteva sulla porta uno spezzone di scotch da pacchi, questo per capire al suo ritorno se qualcuno era entrato nell'appartamento. I carabinieri della stazione di Fermignano, coordinati dal comandante della compagnia di Urbino, il capitano Renato Puglisi, non sono potuti entrare nell'appartamento perché la donna, oltre ad non avere le chiavi di casa, non poteva aprire dall'interno la porta, dato che l'uomo aveva letteralmente smontato la serratura nella parte interna. Alla base di questo comportamento ossessivo dell'uomo, una gelosia cieca e soffocante, che spesso sfociava anche in atti di violenza fisica e sessuale, se la donna osava ribellarsi o non soddisfare le richieste del quarantenne, come lei stessa poi ha dichiarato ai militari una volta arrivata in caserma. La donna, inoltre, non poteva chiamare nessuno, nemmeno col cellulare, dato che il marito lo teneva con sé durante il lavoro e lo riconsegnava alla sventurata una volta rintornato a casa. Cellulare dal quale aveva anche cancellato tutti i numeri di amici e conoscenti, lasciando solo quelli dei parenti stretti. Per liberare la donna dalla sua prigionia casalinga sono arrivati i vigili del fuoco che hanno abbattuto la porta d'ingresso, assieme anche ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna. Dopodiché i carabinieri si sono presentati nel luogo di lavoro dell'operaio e lo hanno arrestato. La donna non poteva nemmeno uscire di casa da sola e per nessun motivo e le poche volte che lo faceva, lo faceva in compagnia del suo carnefice che la costringeva anche a tenere occhi bassi e non rivolgere la parola a nessuno. Una condizione ci informano gli inquirenti di totale sudditanza psicologica e fisica nei riguardi dell'uomo, alla quale purtroppo la donna non ha mai avuto la forza ed il coraggio di ribellarsi, ma che si inquadra bene nell'ormai infinita schiera di violenze di genere, soprattutto nei confronti delle donne. L'uomo è stato arrestato e si trova costretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre la donna ora si trova assistita ed in un'altra struttura.